La via Postumia è un'antica via romana, parliamo del 148 a.C., che univa i due mari, diciamo Mar Ligro e Mar Adriatico, cioè il tracciato partiva da Genova ed arrivava ad Aquileia con 475 circa chilometri attuali. Il nostro motto è sulle tracce dell'antica via Postumia, in cui abbiamo invitato dei partecipanti, in cui faremo degli spettacoli con delle persone in costume. Uno storico nostro, il dottor Ennio Cirnigliaro, che ci descriverà tutti i passaggi storici. Una traccia che esiste è descritta nella tavola bronza di Polcevra. Questo reperto storico oggi è costruito dal museo di Pelli. Comunque, in questa traccia viene menzionato Ponte Decimo, che era Ponte Decimo miglio della via Postumia. La nostra intenzione sarebbe quella di proseguire con le tappe. Questa potrebbe essere stata la prima tappa, i primi 7-8 miglia della via Postumia, per proseguire con il Decimo miglio, considerando che un miglio romano era a 1450 metri circa. Andando avanti si sale su a Cesino, per chi è pratico della Val Polcevra, per scendere giù nella zona di Roncoscrivi, da Libarna si passa a Tortona, a Piacenza, a Cremona, a Verona, per arrivare ad Aquileia, che ancora oggi c'è ancora i reperti del porto di Aquileia. Il mio nome da romano è Claudius Nonus Clemens. Sono un comandante posterio, sono un centurione posterio, che dovrei comandare la linea degli astati e quindi essere poi in prima linea nei combattimenti. Faccio parte di questa associazione che si chiama Terza Liguria Romano Tempore, da cui abbiamo tirato fuori, impersoniamo la Terza Consolare, che è una legione di epoca repubblicana, praticamente nel contesto genovese. Quindi facciamo molte manifestazioni legate al territorio. Posteriormente a questa costruzione di questa strada, avevano poi creato una fitta rete, per cui si sono allargati poi alla via Emilia Scauri, che era quella che andava su verso Aquiterme, per definire tutto il reticolo di strade che permettevano alle legioni di spostarsi rapidamente, di arrivare sui campi di battaglia in breve tempo. Era frequente che tra i Liguri che abitavano queste zone si venissero a creare dei veri momenti di attriti. Allora i Romani facevano da paceri, decidendo poi da che parte il piatto della bilancia dovesse poi pendere.